Bari è la nona tappa di un percorso di sensibilizzazione partito il 1 febbraio da Roma che si chiuderà il 28 febbraio in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Presentata nel capoluogo pugliese la campagna Uniamo le forze realizzata da Uniamo la federazione italiana malattie rare con il coinvolgimento delle cariche istituzionali regionali e comunali, i rappresentanti del coordinamento malattie rare e le associazioni dei pazienti. Prima il taglio del nastro per la partenza dei 50 autobus destinati a percorrere le strade di Bari con i colori del Rare Disease Day, poi la conferenza in comune. Uniamo ha sviluppato la campagna della giornata malattie rare per il 2023 attraverso la sensibilizzazione su strada con bus, tramvie e metropolitane che quest'anno ha toccato anche la città di Bari. Siamo molto felici perché in tutte le tappe che abbiamo fatto le istituzioni sia politiche che tecniche hanno risposto benissimo a quello che è stato il richiamo a cercare di fare sempre più rete. Uniamo le forze è il nostro hashtag. I centri malattie rare che sono stati istituiti in tutte le province pugliesi hanno consentito di aumentare le diagnosi regionali in maniera molto sensibile. Solo il 23% oggi sono le diagnosi di malattie rare che vengono fuori regione. in passato superavano il 65%. Quindi significa che i nostri sanitari e le nostre strutture hanno di gran lunga migliorato la capacità di comprendere, di cominciare ad affrontare, ad orientare i pazienti che ovviamente distinguendo quelli che possono essere trattati qui in regione ma anche quelli che di fronte ad enormi e straordinarie complessità devono essere trattati altrove stabilendo poi con tutta la rete nazionale e internazionale quei contatti che ci consentono appunto questo lavoro di orientamento.